una fabbrica grandi classici vi farò vedere un gioco molto particolare qualcosa che ha cambiato le regole del gioco letteralmente qualcosa che ci ha cambiato le prospettive oggi parliamo di hero quest adesso lo stanno per riproporvelo nella nuova confezione ma questo è quello storico uscito nel 1989 cioè pensate al tempo la mia generazione era abituata a giocare con monopoli cluedo girare in tondo tirando un dado muovendo pedine che al più potevano essere un funghetto una candela e ci ritroviamo questo di colpo un gioco collaborativo con un master con una serie di avventure una diversa dall'altra con miniature che ok forse al giorno d'oggi ci potranno sembrare anche poco dettagliate ma i tempi erano qualcosa di fantascientifico per noi questo ci ha cambiato la prospettiva del gioco e forse se siamo qua oggi è anche un pomerito suo confezioni decisamente ancora in vecchio stile quando erano basse e lunghissime da portarsi in giro in praticamente impossibili al ritardo troviamo il tabellone del master quello che si mette il master davanti a sé per non far vedere le proprie cose e che comunque dietro anche come dire un bel riepilogo degli oggetti possibili immaginabili per il montaggio degli elementi trovavamo sul retro della scatola le indicazioni di come montare le cose avevamo un enorme tabellone di gioco per i tempi era veramente enorme rappresentava il nostro dungeon e le stanze corridoi muri sopra di esso noi andavamo ad allestire il dungeon di volta in volta come oggetti oltre regolamento che adesso chissà dove ho messo perché lo stavo riguardando l'altro giorno ma giuro c'è c'era un regolamento e un libretto delle avventure poi i fogli personaggio per scrivi il vostro nome e marcarvi le vostre cose altri vari blocchetti di varie cose poi ci sono le tessere dei personaggi il mago il nano il barbaro l'elfo grandissimi classici no poi troviamo una serie di suppellettili per comporre il nostro dungeon vengono tutte esemplificate all'interno della confezione con le regole le porte importantissime la maggior parte chiuse perché frega che noi ci arriviamo non sappiamo assolutamente cosa troviamo dentro le cose poi diventano aperte una volta che vi siamo passati attraverso le nostre miniature che oltre a quelle degli eroi che sono queste qua ci sono le miniature di diciamo dei nemici che ce n'è di vario genere abbiamo gli orchi i goblin i fimir abbiamo gli scheletri i zombie le mummie i guerrieri del caos e più particolare dovrebbe esserci da qualche parte più grande il gargoyle eccolo qua e anche lo stregore del caos come vedete diverso dai maghi ci sono inoltre anche una serie di dadi alcuni per il movimento altri per il combattimento teschi e scudi sono quelli che ci servono per colpire o parare e poi vi sono le carte che sono relative o ai mostri con le loro caratteristiche oppure abbiamo le carte incantesimo che ce n'è di quattro tipi tre incantesimi del fuoco tre incantesimi della terra tre dell'acqua e guarda caso tre dell'aria con i loro effetti sono le carte equipaggiamento che ci servono per equipaggiare i nostri eroi di avventura in avventura per migliorare le nostre prestazioni infine abbiamo questo ovvero i tesori quelli che noi potremmo trovare esplorando il dungeon possono contenere oro infusi ma anche delle brutte sorprese che invece che un tesoro troviamo magari un mostro errante che ci viene ad attaccare è il momento di vedere come preparare la nostra partita prima di vedere il vero funzionamento del gioco vediamo ancora una cosa come vi ho detto ci sono diversi libretti uno sono le istruzioni e niente qui vi leggete le regole del gioco e niente poi molto importante invece abbiamo il libro delle imprese qui addirittura ne ho tre perché ho quello della scatola base più un paio di libri che vengono da due espansioni vediamone uno questo è importante deve vederlo soltanto il giocatore che comunque la partita fa il master gli altri non devono guardarlo il giocatore che fa il master prende il libro immagino in questo verso per vederlo meglio apre su un'avventura ancora non fatta la prima diciamo è la prova è quella un po per adeguarsi e a questo punto a disposizione tre cose la piantina che andrà a creare pian piano durante la partita l'incipit ovvero il nome della dello scenario e quanto deve raccontare ai ai giocatori e quello che trova nella parte pergaminata con la sigili col sigillo suo infine ci sono anche delle note queste invece non vanno dette ai giocatori solo il master le conosce e se si verificano le condizioni qua riportate eventualmente andrà a leggere e farà quello che va fatto quindi il master soltanto si guarda la piantina perché il master la vede tutta quanta i giocatori invece la vedranno un po per volta a partire dalla zona in cui inizieranno a giocare che sarà quella dove vedete le scale che scendono del dungeon e poi vedrà che cosa vedrà soltanto delle stanze con delle porte chiuse quando le aprirà ogni volta che si infilerà in una nuova zona potrà vedere nella linea di vista che cosa iniziare a esplorare pian piano iniziare una partita ogni giocatore prende il suo personaggio la scheda del suo personaggio se vuole si prende anche un simpatico foglio dove compilarsi con il proprio nome nome del personaggio tenere a mente i propri progressi perché di fatto qui abbiamo come dire i punti iniziali valori iniziali di ogni personaggio però pian piano noi potremmo anche migliorarci se facciamo una serie di avventure se non siete in cinque giocatori dove uno fa il master gli altri quattro fanno i giocatori come dire gli avventurieri potreste anche scegliere di tenere più di un avventuriero a testa per averli comunque tutti in campo perché a volte le missioni potrebbero risultare difficili da fare da soli o solo in due no quindi i giocatori si prendono questi se li spartiscono oltre a ciò a parte che nel gioco base nella prova di base i giocatori che tengono l'elfo e il mago possono anche spartirsi gli incantesimi come abbiamo detto ce ne sono di tre tipi e verranno distribuiti tre al mago e uno all'elfo secondo questo criterio il mago sceglierà per primo che tipo di incantesimo vuole tra i quattro uno ne sceglie poi l'elfo ne sceglierà uno ancora disponibile il mago prenderà gli altri tipi rimasti le carte equipaggiamento vengono temporaneamente messe da parte queste ci serviranno diciamo tra avventure e avventura per migliorare il nostro personaggio quelle che invece ci servono sono le carte tesoro il master si prende invece il suo schermo e si co e si tiene dietro il suo schermo si metterà il libro in modo da non farlo vedere gli altri inizierà col mettere la stanza iniziale da cui si parte scale la porta eventualmente altre cose se ci sono gli omini verranno collocati adiacenti alla tessera scale come vogliono loro tenete pronti i dadi perché vi serviranno ci sono due dadi da sei per il movimento quattro dadi con teschi e scudi per la fase di combattimento il master tiene anche portata di mano le carte dei mostri per ricordarsi i valori dei mostri diciamo che il sostanzialmente nelle carte troverete questi valori i valori di movimento a volte sono fissi a volte vanno tirati dai dadi i dadi di attacco i dadi di difesa ovvero quanti dadi tira quando attacca e quando difende i valori di corpo e mente corpo sostanzialmente sono i vostri punti ferita di solito i mostri ne hanno solo uno tendono a morire appena colpiti i personaggi ne hanno qualcuno in più per quanto riguarda i punti mente inizialmente non servono nelle campagne successive invece con introduzione di altre regole saranno utilizzati di più a questo punto si è pronti per iniziare i nostri personaggi devono chiaramente affrontare la missione che gli viene data e questo di solito vorrà dire che dovranno esplorare il dungeon come avete visto il dungeon è formato da stanze e passaggi le stanze sono queste di vario colore racchiuse dentro le righe bianche che sono i muri non attraversabili i passaggi sono questi grigi che vedete intorno e qui al centro giocatori quindi non possono liberamente attraversare una riga bianca devono passare attraverso le porte le porte per definizione all'inizio sono tutte chiuse vengono aperte andandoci davanti per una prima volta da quel momento in avanti le porte restano aperte soltanto i quattro avventurieri possono aprire le porte i mostri no i giocatori iniziano a giocare in ordine che decidono loro uno per volta per ogni turno partite da una andate in senso orario magari conviene partire da quello alla sinistra del master così giocano tutti i quattro giocatori e poi gioca al master perché il master può utilizzare i mostri che sono rivelati allo stesso modo che i giocatori giocano i personaggi ad ogni turno i giocatori possono fare determinate cose il movimento si controlla quanto sia di movimento e si tira se ad esempio si muove di due dadi tiro due dadi e sette il mio movimento arrivare davanti una porta significa vorrei dire aprirla in quel caso viene sostituita con una porta aperta questo non ferma il movimento potete serenamente aver fatto 1 2 3 esservi mossi uscire 4 vedere cosa succede intorno a voi e poi continuare a muovervi ogni volta che una porta viene aperta e un giocatore passa attraverso si scopre una nuova porzione il master metterà ciò che viene visto nella linea di vista del giocatore che ha appena cambiato diciamo la situazione del tabellone oltre a muoversi ogni giocatore può decidere anche di attaccare se può farlo normalmente deve essere adiacente a un nemico per farlo potete scegliere se attaccare prima e muovervi dopo o se muovervi prima e attaccare dopo non potete attaccarvi a metà del movimento quindi se tipo avete un movimento 7 e trovate un mostro dopo quattro caselle combatterete ma il resto del movimento lo perdete non è come per le porte in alternativa all'attacco il giocatore che usa il mago e il giocatore che usa l'elfo potrebbe anche decidere di utilizzare una magia tra quelle a sua disposizione quando le ha utilizzate la scatta perché ne ha tre per tipo e vengono consumate come dicevamo quando si rivela una nuova zona il master va a comporla a seconda di quello che vede nella sua nella sua piantina quindi nel momento in cui l'elfo arriva qui il mago arriva qui e può vedere tutta questa zona il master dovrà mettere una porta qui un orco qua una casella qui queste caselle con queste masse sono sostanzialmente delle strade bloccate servono di solito per come dire ridimensionare un pochino il dungeon che non sia tutto completamente esplorabile ogni volta perché potrebbe essere un po' lungo come gioco di solito le prime missioni viene un po' ridotto mettendo alcune di queste qua e là così non si può passare ulteriormente nel momento in cui un mostro è rivelato il master durante il suo turno può utilizzarlo il master può utilizzare quanti mostri vuole purché essi siano stati rivelati durante il proprio turno come avete visto è uscita una nuova porta se lui è ancora a movimento o se ne avrà dopo potrà andarvi e aprirla nel momento in cui l'apre vedremo cosa succede all'interno della stanza successiva aprire questa porta comporta ovviamente la sostituzione con una nuova porta aperta perché abbiamo vista e si potrà vedere tutto quello che vi è all'interno quindi viene posta la porta un nuovo mostro controlla gli eventuali elementi scenici che sono all'interno della zona e tutti quanti i mostri e così procede una cosa molto importante sul movimento del lancio dei dadi è quella del passare attraverso caselle occupate o meno un giocatore può passare attraverso una casella occupata da un suo compagno di gioco quindi ad un altro avventuriero non può farlo attraverso le caselle occupate da un mostro in ogni caso non può fermarvi si sopra ad esempio questo giocatore facendo un tiro di 7 può passare serenamente attraverso lui quindi fare 1 2 3 4 5 più in qua non può andare perché c'è un mostro se avesse fatto due e avesse voluto andare la avrebbe dovuto fermarsi a uno perché non poteva comunque completare il suo movimento qui volete passare a una fase di attacco il giocatore che attacca prenderà un numero di dadi da combattimento pari al numero che da di dadi che tira in attacco ad esempio qui abbiamo un elfo l'elfo tira due dadi di attacco per ogni teschio che viene fuori il giocatore ha messo a segno un colpo a quel punto l'avversario che sia un mostro che sia un mostro che attacca il personaggio vedrà quanti dadi di difesa ha e cercherà di parare ad esempio questo mostro ha due dadi di difesa come funziona la difesa si tirano i dadi invece che fare dei teschi bisogna cercare di fare gli scudi esistono due tipi di scudi quelli tondi e quelli rettangola e quelli diciamo a scudo classico così a punta il giocatore che possiede un avventuriero quindi un giocatore vero e proprio deve cercare di far uscire gli scudi questi qua più chiari e fatti a scudo classico a punta in giù mentre i cattivi cercheranno di far uscire lo scudo tondo quello con due zanne dentro ad esempio in questo caso abbiamo detto che ha messo segno un colpo lui difende due non sono stati fatti degli scudi il mostro muore i personaggi che i mostri uccisi vengono immediatamente rimossi dal tavolo se vengono rimossi dei personaggi che hanno perché le hanno acquisite nei precedenti avventure degli oggetti degli equipaggiamenti delle fortune dei tesori queste possono essere acquisite un altro personaggio avvicinandosi ovviamente al personaggio che appena stato eliminato nel caso si decidesse di utilizzare un attacco che ha un effetto a distanza bisogna anche valutare qual è la linea di vista che noi abbiamo un personaggio a una linea di vista che vuol dire andare a vedere direttamente l'avversario se lo vede bene se non lo vede non ci può fare nulla questa deve essere diretta e non ostruita ad esempio questo personaggio può vedere tranquillamente qui dentro questi due attraverso una porta perché aperta fosse stata chiusa non può vederla non può vedere l'orco qua perché è dietro l'angolo non ha una linea di vista diretta se fosse stato molto vicino tipo così diagonale l'avrebbe potuto vedere non può neanche vedere quest'altro orco perché la linea è ostruita da un suo compagno anche se fosse non stato un suo compagno ma fosse stato un altro avversario comunque uspirebbe per la vista su quello successivo un personaggio può decidere di fare anche un'azione alternativa all'attaccare ovvero se decide di non combattere corpo a corpo o comunque di non lanciare incantesimi potrebbe anche decidere di fare una ricerca quindi dichiara di voler fare una ricerca e dice qual è il suo obiettivo che può essere di questo genere o porte segrete e trappole oppure tesori lo stregone consulta la mappa sul libro delle imprese per controllare se vi è qualcosa nascosto in quella stanza o in quel passaggio perché può farlo sia in una stanza sia anche in una zona di passaggio ovviamente se lui è qui per lustra questa sezione del passaggio non è che per lustra quella dall'altra parte per lustra quello in cui è dopodiché quella zona verrà considerata per lustrata per tutta la stanza l'intero passaggio per il resto di tutta la partita come dicevamo può cercare o delle porte segrete o delle trappole e se vi sono il e se vengono rivelate dallo stregone in alternativa potrebbe anche scegliere di cercare dei tesori se vi sono dei tesori è il momento di andare al mazzo dei tesori che potrebbe contenere dei tesori veri e propri che vengono descritti ma anche dei mostri erranti che quindi si paleserebbero in quel momento e attaccherebbero immediatamente non soltanto le zone possono essere esplorate possono essere esplorate anche gli oggetti gli elementi scenici che vengono introdotti pian piano nel gioco questo però può essere fatto solo e solamente se nella porzione esplorata o nella stanza esplorata non vi sono presenti mostri avete mai visto qualcuno che si mette a cercare liberamente mentre un orco dietro cerca di scannarlo non mi sembra molto credibile oltre a tesori e passaggi segreti l'altra cosa che potrebbero esserci sono le trappole perché ne esistono di tre tipi che potreste incontrare i pozzi trabocchetto ovvero si apre un pozzo e ci cascate dentro perdendo un punto corpo però tenete presente che una volta rivelato si potrebbe anche cercare di saltarlo il pozzo in modo da non caderci dentro le volte successive poi vi possono essere dei massi cadenti che potrebbero arrivare in testa e infine ci sono anche le trappole con lancio ovvero lancia che escono fuori da qualche parte tutte queste vi procureranno chiaramente dei danni se ci cadrete e non riuscirete a schivarle tenete presente che delle trappole potrebbero essere anche nascoste dentro degli scritti o dentro degli oggetti chi lo sa nel qual caso sarebbe indicato delle note a beneficio del master pian piano che andrete avanti ad esplorare chiaramente sempre più stanze verranno aperte sempre più cose verranno rivelate ad esempio a questo punto vedete abbiamo già rivelato buona parte del dungeon sappiamo che grazie a massi caduti la zona che dobbiamo esplorare qui più in là non si riuscirà ad andare salvo che non ci siano porte in interne che ci portano come vedete e niente ci vuole anche un po di fortuna chiaramente perché vi viene detta qual è l'inizio la vostra missione ma voi non saprete esattamente dove sarà la cosa o il personaggio che state cercando quindi bisogna girare anche un po alla cieca all'inizio sperando di beccarlo abbastanza veloce da non venire massacrati dai colpi nemici ma magari neanche troppo lentamente perché esplorando di più il dungeon avreste la possibilità di trovare più tesori chi lo sa sta a voi chiaramente nel momento in cui il giocatori che impersonano gli avventurieri riescono arrivare in fondo all'obiettivo e tornare sane salvi a casa hanno vinto la partita e chissà possono curarsi così per pensare di passare al prossimo scenario sarà di volta in volta sempre più difficile e quindi sarà il caso di volta in volta di equipaggiarsi meglio dunque ragazzi siamo arrivati in fondo quindi alla nostra avventura si fa per dire un'altra cosa che vi faccio ancora notare è che nel libro delle imprese al centro troverete uno spazio vuoto dove poter creare diciamo le vostre avventure conviene fotocopiarsi la pagina e che sa se avete fantasie potreste trovarne una nuova ok sono sicuro che gli assidui frequentatori i giochi da tavolo tre di voi al giorno d'oggi avranno già giocato ad altri giochi su il genere sicuramente con miniatore più belle magari anche con meccaniche ancora più incredibili con idee rivoluzionari rispetto a questa ma ma questa forse è stata la vera rivoluzione c'è da chiedersi senza lui avremmo visto quello che abbiamo visto oggi chi lo sa io con questo vi saluto vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo iscrivetevi al nostro canale attivate la campanellina così rimarrete sempre aggiornati per i prossimi video